Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Leggiamo insieme in Deuteronomio 7,7. Noi siamo delle persone privilegiate. Il Signore ci parla in un modo meraviglioso. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti. Non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo. Il messaggio di questa mattina dice, il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti. Certo che quando lui dice, non perché siete un numero molto numeroso, la verità dei fatti è che era soltanto Abramo e Sara. Certo che è un mistero, ma realmente oggi ci siamo 8 miliardi di persone. Da dove proveniamo? Tutti da Adamo? Beh, per la nuova vita spirituale Dio ha iniziato con una famiglia senza figli, perché Dio è Lui che fa le cose. Non per il numero e infatti viene da una coppia, Abramo e Sara. Oggi vuole scegliere te e la tua famiglia. Bellissimo. Lui continua a lanciare messaggi per dire, io mi sono affezionato a te, mi sono affezionato alla tua famiglia. Bellissimo. Grazie, Signore. Quando leggiamo in Atti 16, 31, troviamo un altro che crede. Voleva essere salvato e Paolo e Sila gli risposero, credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Un'altra famiglia. Una famiglia alla volta. Vediamo, a duemila anni di distanza tra Abramo e il carceriere di Filippi, hanno più, hanno meno, Abravo credette e questo carceriere di Filippi gli veniva indicato che per essere salvato anche lui doveva credere. In una notte di intensa oscurità, credi vuol dire la salvezza spiegata in un modo semplice. Come fu semplice per quel carceriere di Filippi, così è semplice per te. Sì, sì, non ci sono complicazioni. Ora, perché non ci sono complicazioni? Perché quello che fece Abramo duemila anni prima, leggiamo in Genesi 15, 6, veniva richiesto a quel carceriere duemila anni dopo. Oh, che coincidenza! Leggiamo Genesi 15, 6. Ci sono dei paralleli. Gli anni passano, ma Dio è lo stesso. Egli, cioè Abramo, credette al Signore, che gli contò questo come giustizia, benedetto Dio. Abramo credette ed iniziò il suo cammino con Dio. Questo è tutto. La stessa medicina, la stessa ricetta veniva data al carceriere di Filippi in Atti 16, 31, e leggiamo anche questa ricetta, perché questa serve anche a te e a me. Ed essi risposero, credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Guarda, quando vedo le cose così semplici, mi viene da sorridere. Perché? Perché duemila anni prima Abramo credette e iniziò un cammino con Dio. Duemila anni dopo il carceriere di Filippi credette e ci fu una festa in famiglia e cominciò una nuova vita. Duemila anni dopo successe pure a me. Certo che quando sei coinvolto in certi fatti che sembrano così lontani e poi diventano parte della tua vita, dici, ma che cosa c'è dietro? La salvezza non è limitata solo al carceriere, ma a chiunque crede. Duemila anni fa, quattromila anni fa, anche a me è stato così. Gesù dice, ascolta bene, questo serve a te. In Giovanni 3,18 dice così, che bella la parola del Signore. Chi crede in Lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Oh, che cosa gli succede? Non sarà condannato nell'ultimo giorno. Sai, nella Bibbia c'è scritto che nell'ultimo giorno succede una selezione, vita eterna, bene eterne. Credere in Gesù vuol dire che quando arriviamo in Apocalisse, capitolo 15, dal verso 11 al verso 15, noi siamo separati. Leggiamolo, così sappiamo dove siamo diretti, perché la Bibbia ci parla di migliaia d'anni dietro e nell'eternità futura. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Cioè, tutto ciò che vediamo non ci sarà più, neppure noi. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. Qui questo libro non è quello della nostra Chiesa. Attenzione! Non ti fidare di quello della Chiesa. Non è che non devi essere scritto, perché è giusto che il pastore e i fratelli sappiano quanti membri ci sono. Ma non è questo. Che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Andiamo fino al verso 15. Il mare restituì i morti che erano in esso. Non ti sciocchi questo pensiero, perché noi veniamo dalla terra, perciò Dio ci può far sorgere da tutte le parti. La morte e l'Hades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. Qualcuno dice, ma che cos'è la morte seconda? È la morte eterna, separati da Dio per tutta l'eternità, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, vedi qui, è molto importante, se puoi metterci il verde sopra per chiarire questo punto, perché molti pensano che quando sono scritti nel registro della loro chiesa vanno in cielo, ma la parola del Signore non dice così. Dice che se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, questo lo fa il Signore direttamente, fu gettato nello stagno di fuoco. Qualcuno non crede nell'inferno, ma poi mi deve spiegare in separata sede che cosa vuol dire. Leggiamolo un'altra volta. Queste quattro o cinque parole, fu gettato nello stagno di fuoco. Ebbè, lo possiamo chiamare come vogliamo, inferno, stagno di fuoco, ma questa è la morte seconda. È facile che nella tua religione non si credano queste cose, ma Dio non guarda che crediamo noi. Dio fa quello che deve fare lui, e lui l'ha scritto e questa è la parola di Dio. Perché andiamo a finire lì? Perché non crediamo a Dio. Infatti abbiamo letto il verso 18 del capitolo 3 di Giovanni. Leggiamo la prima parte. Cosa dice? Chi crede in lui non è giudicato. Vedi, passiamo per la grazia. Lui ci dà nel momento che crediamo in lui il certificato della grazia. Perché non credi nell'opera che Cristo ha compiuto sulla croce? Perché Dio ha mandato Gesù per salvarti. E infatti nel verso 17 dice che Dio, Dio, il creatore, sai, non è uno così di seconda classe, dice che non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare noi, per giudicare il peccato, giudicare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. e si è fatto, e si è dato, cioè Dio, Gesù, si è dato, Dio lo ha mandato, e lui si è dato, come dice nel verso 16, per fare questa opera in nostro favore. perché Dio ha tanto amato il mondo, vuol dire l'essere umano, tutta l'umanità, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E lui si è dato volontariamente per fare quest'opera. questo gli disse il padre quando lasciò l'eternità per incarnarsi qui come vero uomo e vero Dio. Il padre gli disse, vai che io, tu vivi la tua vita santa e io ti risuscito. Leggiamo insieme in Giovanni 10, 18. Gesù parlava di queste cose, nessuno me la toglie, la vita, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal padre mio. E Gesù, quello che fece, perché come figlio di Dio lui aveva il potere di dare e riprendere la sua propria vita perché in lui era la vita. Lui era il generatore, lui era ed è il generatore della vita. Come leggiamo in Giovanni 1, 4. Dice così che in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. E diciamo che senza Gesù saremmo stati terra come era Adamo prima che avesse soffiato nel suo viso. Era lui che aveva soffiato in Adamo nella Genesi, capitolo 2, verso 7. Così andiamo all'origine dell'umanità e sappiamo come ha operato in pratica. Diventa tutto più chiaro. Lui col Padre e lo Spirito Santo fecero questa opera Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne anima vivente. Oh che bello! E tutte le cose le ha fatte lui. nel verso 3 del capitolo 1 dice che tutto ciò che vediamo l'ha creato Gesù il Figlio di Dio. Oh che bello! Signore, grazie! Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei della parola vuol dire attraverso la parola perché Cristo è la parola vivente e senza di lei senza la parola lui diceva le cose accadevano neppure una delle cose fatte è stata fatta. Già quando era con Dio nel verso 2 dice che era così era già stabilito nell'eternità e non solo nell'universo così è stato creato essa era nel principio con Dio e fin dal principio eterno se leggiamo nel verso 1 così andiamo proprio all'origine fin dall'eternità nel principio era la parola la parola era con Dio e la parola era Dio cioè Gesù faceva parte della Trinità già prima che fosse rivelata a noi la Trinità meraviglioso sei Signore sembra molto difficile ma per Dio tutto è facile Abramo aveva una rivelazione speciale ho detto prima quando cominciamo a camminare col Signore e rispondiamo alla sua chiamata lui comincia a rivelarsi al nostro cuore eh se tu ricordi quando Gesù pregava per battezzare che si era appena battezzato consacrato per il ministero lui aveva già rivelazione prima ma lì dice in un modo speciale i cieli si aprirono e la voce di Dio si sentì a tutti quelli che erano lì dicendo questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo e lì ci fu la rivelazione della Trinità completa perché il Padre parlava dal cielo lo Spirito Santo era su di lui in forma corporea come una colomba che la avvolgeva e Gesù stava pregando vedi la rivelazione man mano è graduale nella nostra vita perché non comprendiamo tutto in un colpo tutto in un momento e così aveva rivelazione anche Abramo da quando aveva cominciato a camminare Abramo aveva cominciato a camminare nel capitolo 12 un po' di anni molti anni prima nella Genesi quando arriviamo nel capitolo 22 verso 8 il Signore gli stava rivelando il futuro che cosa avrebbe fatto infatti Abramo rispose figlio mio Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto e proseguirono tutti e due insieme che vuol dire già esprimeva la sua fede in Cristo ora capisci perché Gesù diceva Abramo vide questo giorno e si rallegrò perché in in similitudine con questa con questa partecipazione di Abramo gli faceva comprendere il messaggio della sostituzione facendolo proprio sul suo figlio Isacco che doveva essere offerto e invece Dio sostituì l'agnello a Isacco e Isacco se ne tornò a casa e visse e continuò a vivere Dio stava spiegando in pratica cosa avrebbe fatto Gesù su quel cucuzzolo del monte Calvario perché erano proprio vicini dove poi stava facendo questa opera Abramo allo stesso posto Dio faceva notare che duemila anni dopo su quel cucuzzolo dove aveva salvato il suo figlio Abramo da morte sicura avrebbe salvato me e te e così ha fatto che bello gli stava dando non un libro da scrivere gli stava dando degli esempi pratici per far comprendere che ci doveva essere la sostituzione del giusto che muore al posto del peccatore per salvare il peccatore già esprimeva leggiamo il capitolo 22 verso 8 così comprendiamo bene come Dio ci ha maestra nei secoli Abramo rispose figlio mio Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto e proseguirono tutti e due insieme già esprimeva la sua fede in Cristo Dio già gli faceva vedere la scena del Calvario leggiamo nel verso 13 dove viene completata l'operazione del suo figlio Abramo alzò gli occhi guardò ed ecco dietro a sé un montone infigliato con le corna in un cespuglio Abramo andò prese il montone e l'offerse in olocausto invece di suo figlio se ci puoi mettere il verde invece di suo figlio giusto per sottolineare che Dio stava facendo un'azione da farci comprendere la sostituzione di Isacco con l'agnello e la sostituzione dell'agnello al nostro posto gli espose il concetto del sacrificio sostitutivo che poi lo sviluppò man mano col tempo Dio ne cominciò a parlare settecento anni prima attraverso i profeti anche prima già con Mosè però incideva forte la crocifissione attraverso il profeta Isaia che possiamo leggere Isaia 53 da 4 a 6 dove guardiamo proprio settecento anni prima come si sviluppa la crocifissione tuttavia erano le nostre malattie che gli portava erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato ma noi lo ritenevamo colpito percorso da Dio e umiliato perché come se fosse stato un apostata egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni stroncato a causa delle nostre iniquità il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue e lividure noi siamo stati guariti siamo stati liberati dal peccato noi tutti eravamo smarriti come pecore ognuno di noi seguiva la propria via ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti qui parla di noi esseri umani ma ad Abramo nel capitolo 22 verso 13 gli viene data la spiegazione singolare in pratica non scrive un libro ma fa tornare suo figlio a casa infatti Abramo andò prese il montone e l'offerse in olocausto invece di suo figlio mentre Isaia sta parlando di Gesù infatti quando Gesù venne nel capitolo 1 di Giovanni Giovanni Battista che era il precursore che annunciava il Cristo nel verso 29 dichiara davanti a tutto Israele oh gloria al Signore ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo si stava riferendo a quel prototipo che era stato fatto da Dio per Abramo per fargli comprendere l'atto sostitutivo del peccatore per il peccatore e così Gesù veniva già dichiarato come l'agnello che doveva essere immolato e Gesù già nel capitolo 13 verso 14 annunciava a coloro che lo circondavano dicendo un altro aneddoto un altro caso che era successo nel deserto in Giovanni 3 14 prende l'esempio del serpente nel deserto e dice così devo essere io messo sul monte Calvario e come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato e così fu e questo innalzamento non era per glorificarlo era per essere crocifisso che quando poi leggiamo col passare del tempo la rivelazione diventa sempre più chiara il grande apostolo Paolo per la grande rivelazione che aveva ricevuto da Dio in secondo Corinzi capitolo 5 verso 21 dice che la sua morte fu proprio per incorporare il nostro peccato e inchiodarlo sopra la croce colui che non aveva conosciuto peccato perché aveva vissuto una vita santa egli Dio lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui infatti noi non siamo giusti ma ci appropriamo della sua giustizia e siamo davanti a Dio perciò quando noi crediamo col cuore in quello che Gesù Cristo ha fatto Dio per mezzo dello Spirito Santo attiva la fede nel nostro cuore e ci sentiamo liberati dal peso del peccato lui visse una vita giusta per cedere a noi la sua giustizia e per mezzo di questa opera quando noi crediamo come dice Romani 5 1 siamo stati siamo stati non dice saremo quel momento che crediamo accade questo giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore perciò bisogna credere a Dio Abramo abbiamo letto credete a Dio in Genesi 15 6 cosa fece Abramo per essere salvato leggiamo 15 6 dice che fece credete a Dio che gli credette al Signore che gli contò questo come giustizia quale giustizia quella di Cristo che doveva venire perché Cristo essendo l'eterno figlio di Dio vale per tutta l'eternità un uomo non lo poteva fare perché noi siamo limitati nel tempo Cristo figlio di Dio nato dallo spirito eterno di Dio a questa possibilità eterna di prendersi tutta la latitudine del peccato quando più ce n'è perché lui è Dio bellissimo quando sei grande Signore Paolo questo disse al carceriere di Filippi che cosa disse Paolo al carceriere di Filippi leggiamo atti 16 31 credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia e questi spiegarono alla sua famiglia che cosa vuol dire come te lo sto spiegando io nel verso 32 il Signore ha suoi servi in tutti i tempi poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua Dio duemila anni prima aveva Abramo che parlava di questo poi c'era Gesù poi c'erano gli apostoli i discepoli i credenti questa mattina il Signore per mezzo mio ti sta facendo comprendere la stessa cosa perché è facile che tu desideri essere salvato fai un sacco di sacrifici religiosi e non vedi mai un cambiamento nella tua vita il Signore che ti ama che si è affezionato a te come abbiamo letto oggi ti manda il messaggio vero per la tua salvezza io sono un suo messaggero un messaggero moderno si sono anziano ma un messaggero moderno del Vangelo per dirti la stessa cosa credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia mentre la religione dice che dobbiamo fare il Vangelo ci dice che è stato già fatto tutto da Gesù Cristo sulla croce tu devi soltanto credere a Dio come Abramo ti è difficile? perché è difficile? prendi la sua parola vai a approfondire gli argomenti oggi il Nuovo Testamento o la Bibbia è alla portata di tutti è difficile? approfondisci l'argomento entra nella parola del Signore interessati il Signore cerca di cogliere le occasioni perché si è affezionato a te alla tua famiglia lui conosce i momenti tristi che stai vivendo i momenti felici ma anche quelli difficili il Signore ti vuole bene perciò cerca in tutti i modi chissà quanti ti hanno già parlato del Signore fino a questo momento secondo te perché Dio lo fa? perché Dio si è affezionato a te ti vuole salvare il desiderio suo è di salvare i suoi figli noi siamo creature di Dio vuole salvare le sue creature per farle diventare figli suoi bellissimo questo Paolo questo disse al carceriere di Filippo in atti 16 31 e 32 leggiamolo la salvezza è semplice essi Paolo e Sila dissero a quest'uomo che voleva essere salvato perché si accorse che quelli erano due servitori del Signore che portavano la salvezza il messaggio della salvezza perché sempre Gesù è colui che salva ed è presente dove sei tu dove sono io credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua nel verso 32 si misero a spiegare a tutta la famiglia poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli la famiglia ma quello secondo me invitò tutto il parentato che c'era lì perché uomini come Paolo e Sila non ce n'erano tanti in giro che erano in casa sua Signore grazie come faccio io con te perché è così questo toccò profondamente questa famiglia li videro come mandati da Dio infatti quelli che annunciano il Vangelo come sto facendo io sono delle persone mandate da Dio non è che lasciamo tutto e dice vabbè non voglio più lavorare adesso mi metto a predicare no 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 questa è una chiamata speciale una chiamata che uno lo deve fare col cuore se non lo fai col cuore il Signore ti richiama immediatamente se tu sapessi quante volte prendo un po' le cose alla leggera ma il Signore mi richiama mi riprende subito a volte come se così forte che vedo la mente che vacilla perché il Signore ci ama ma noi non dobbiamo sottovalutare ciò che ha fatto Dio per noi sì sì Dio è amore Dio ci ama però è anche diritto è giusto pure che sia così Signore grazie infatti io sono mandato da Dio per te questa mattina io sento nel cuore proprio questo perché sai lungo il percorso del nostro cammino noi abbiamo delle intuizioni spirituali speciali come per esempio Filippo possiamo leggere di Filippo in Atti 8 29 Filippo era un pescatore io sono uno che non so manco cosa ha fatto nella vita ha fatto tante cose da quando ero piccolo che solo Dio lo sa però lui era un pescatore se leggiamo in Atti 8 28 mentre stava evangelizzando in Samaria il Signore lo chiamò e gli disse porta questo messaggio a un Signore che è andato a Gerusalemme che cercava Dio e non l'ha trovato nel Tempio e ora facendo ritorno seduto sul suo carro stava leggendo il profeta Isaia è sempre lo Spirito Santo naturalmente che gli dà spiegazioni lo Spirito Santo ci guida e quest'uomo era andato per adorare Dio a Gerusalemme era partito dall'Etiopia però non lo fecero entrare nel Tempio con tutti i regolamenti che c'erano restò nel cortile dei pagani però si comprò un rotolo del libro di Isaia ma Dio coglie tutte le occasioni per parlarci e così mentre se lo leggeva sul carro per strada in stava leggendo in Isaia capitolo 53 verso 7 8 però non capiva niente come molte volte succede che non capiamo però il Signore ha sempre degli uomini che sono dedicati a Lui che per lo Spirito Santo ci guida poi se tu dai il cuore al Signore il Signore vedi che guida pure te sorella pure te fratello perché lo Spirito Santo quando trova un cuore che desidera a fare la volontà di Dio a Lui gli piace trovare cuori disponibili infatti quest'uomo stava leggendo in Isaia 53 7 8 leggiamolo insieme stava leggendo così maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca come l'agnello condotto al mattatoio come la pecora muta davanti a Chilotosa egli non aprì la bocca qui parlava di Gesù nel verso 8 pure dice dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo infatti questa è la fine che vediamo a Pasqua adesso con tutte le cerimonie che si fanno e tra quelli della sua generazione chi riflettè che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo e così lui leggeva e mentre lui leggeva Filippo che era un discepolo di Gesù Cristo guidato dallo Spirito Santo leggiamo nel capitolo 8 verso 35 che così ispirato guidato dallo Spirito Santo come fa con me questa mattina verso di te lo Spirito Santo allora Filippo prese a parlare cominciando da questo passo della scrittura gli comunicò il lieto messaggio di Gesù cioè spiegò a questo signore molto distinto preparato perché se leggeva era uno di alta cultura era come Andreotti del tempo passato un capo di stato lui aveva tutto il maneggio della regina Candace in Etiopia e perciò voleva sapere e subito credette nel verso 37 guardiamo cosa fa quest'uomo quando sei grande signore mentre ascoltava così succede pure a te ascolta con attenzione e poi vedi poi li vai a rileggere questi versi perché se non hai il nuovo testamento ordinalo te lo mandiamo noi così subito credette leggiamo insieme nel verso 37 dice Filippo disse se tu credi con tutto il cuore è possibile leonuco questo signore molto distinto rispose io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio alleluia vedi lo spirito santo opera in un modo speciale e anche questo che cosa viene detto che che fece per essere salvato credette abramo credette carceriere di filippo credette leonuco leonuco credette a me è successa la stessa cosa quando ho creduto in Gesù ho sentito la gioia della salvezza e mi ha battezzato nello spirito santo e mi ha fatto nascere la voglia di servirlo non sono stato sempre al cento per cento così però da cinquantasette anni fa quando questo accadde per me come se fosse ieri ogni giorno non mi fermo di servire il signore di piacere a lui trovo il mio piacere nel camminare con lui perché aumenta la rivelazione delle cose che sappiamo da parte del signore signore grazie e si fece battezzare in ubbidienza subito a quello che Gesù aveva detto in in Marco 16 16 Gesù aveva detto che chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato noi molti di noi ci giriamo intorno quando dice vabbè basta credere poi se ci battezziamo il battesimo non è importante no 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 quelli quattro Vangeli sono poche pagine per tutta la vita quelli sono i regolamenti del regno di Dio se ne togliamo pure quelli che cosa che cosa crediamo se Dio ci dicesse di fare chissà che cosa ma sono quelle cose elementari e molti credenti così chiamati poi che credenti sono se lo sanno loro io non voglio giudicarli però se quelle piccole cose che dice il Signore di fare con lui che ha fatto tutto per noi facciamo fatica a dire sì allora che crediamo se andiamo a lavorare da qualcuno per esempio e ci dice che dobbiamo fare diciamo ma no mi dispiace questo non lo faccio e che sei venuto a fare Signore aiutaci molti trattano il Signore come se fosse uno sguattero dice no io penso che questo non ci vuole questo non va bene ma siamo proprio ridicoli io penso che quando ci guarda il Signore che si mette le mani ai fianchi e guarda come pensiamo noi certe volte approviamo anche stoltamente lui dice ma questo chi è noi siamo siamo più piccoli di una formica decidiamo noi ma se vai in un esercito no prova ad andare in un esercito quello che dice il capo è legge e noi facciamo ognuno la legge a modo suo ma Signore liberaci questa mattina Gesù dice in Marco 16 16 leggiamolo un'altra volta se tu vuoi essere un credente cominci a fare almeno quello che dice Gesù se no che cosa credi chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato che vuol dire non avrà creduto beh la seconda parte la troviamo l'abbiamo già letta in Giovanni 3 18 dice che chi ha creduto non è le opere che facciamo è credere ma se crediamo dobbiamo anche fare Giovanni 3 18 dice chi ha creduto leggiamo Giovanni 13 18 chi crede in lui non è giudicato chi non crede è già giudicato vuol dire che è condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dì credere vuol dire obbedire Abramo credette e ubbidì partì lasciò urde i caldei seguivo ogni giorno il Signore quando noi cominciamo a camminare col Signore Signore vuol dire padrone noi dobbiamo fare che dice il nostro padrone ma se vai a lavorare io sono stato in tante alle dipendenze di tante persone fino all'età di 32 33 anni e quando andavo dovevo fare quello che dicevano loro se no mi licenziamo e adesso ci sono credenti moderni che fanno loro decidono loro oppure decidono secondo la loro religione e Dio non c'entra niente ma Dio deve avere il primo posto guardiamo come continua questa storia di Atti 8 38 38 come cosa dice quest'uomo il Signore lo salvò in un modo potente Atti 8 38 fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua Filippo e Leonuco Filippo non disse beh se non ti senti adesso ti bagni poi non hai neppure l'asciugamano e Filippo lo battezzò una volta c'era nella nostra chiesa la suocera del pastore lei pensava sempre pensava io quando mi battezzo devo andare in un paese lontano dove non mi conoscono e così pensava lei un giorno facevano il battesimo in un fiume sotto la strada principale che tutti si fermavano sulla strada sul ponte per guardare questi evangelici che battezzavano nell'acqua del fiume lei ascoltando ciò che diceva il pastore che ha creduto e sarà stato battezzato e salvato lo Spirito Santo gli fece sentire una cosa una parola diretta a lei lei pensava mi devo battezzare dove non mi conoscono tutto a un tratto lo Spirito Santo cambiò il suo pensiero dicendo ma se tu adesso muori non sei salvata perché hai creduto ma non sei battezzata tutto a un tratto questa sorella questa è la semplicità del Vangelo si accostò vicino al genero che era pastore la casa non era lontano disse franchino si chiamava franchi prendi la motocicletta e vai a casa vai a prendere una veste mia e gli disse dove erano perché io mi devo battezzare perché ho creduto ma non mi sono battezzato se il Signore torna stanotte o se io muoio c'è il pericolo che non sia salvato salvata e così chiese di essere battezzata lì per lì sai quando lo Spirito Santo ci dice le cose non ci consultiamo con con chi ci scoraggia facciamo ciò che il Signore ci dice leggiamo come continua questa storia 39 40 quando uscirono dall'acqua lo Spirito del Signore vedi sempre lo Spirito Santo è l'autore della nostra salvezza è colui che ci ispira lui sta ispirando anche me per parlare a te questa mattina e ispira anche te per comprendere lo Spirito del Signore rapì Filippo leonuco non lo vede più e continuò il suo cammino il suo viaggio tutto allegro vedi la salvezza porta gioia leggiamo il verso 40 belle storie che ci sono nella Bibbia ma tu non le leggi poi Filippo si ritrovò in azota lo traslò a 30 chilometri di distanza e proseguendo continuò ad evangelizzare le città finché giunse a Cesarea oh che sei bello Signore Dio ti sceglie oggi lui è lui che crea le circostanze sorella tu pensi che sei qui all'ascolto della parola del Signore dove ti trovi pensi che è una cosa così di seconda classe no Dio crea delle circostanze a noi e noi dobbiamo dare le nostre risposte questa è una responsabilità personale di ogni credente non possiamo far finta di non comprendere davanti al Signore lui sta creando questa circostanza per te Dio ti sceglie oggi lui crea le circostanze infatti quando Gesù dice in Giovanni 15-16 non siete voi che avete scelto me sono io che ho scelto voi come fa viene lì e ti mette il dito Gesù fisicamente no non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome e gli ve lo dia oggi oggi è per te oggi è l'occasione per te sorella fratello fammelo guardare in faccia questo fratello questa sorella vedi che oggi tu ti trovi così davanti a me io non ti vedo neppure tu mi vedi mi ascolti ma realmente questo è un appuntamento divino che il Signore ti sta parlando per perché ti sta scegliendo che si vuole servire di te tu hai un'occasione speciale che pensi che il Signore fa come quello che va alla giornata che va a casa a dire buongiorno se domani vieni a lavorare con me no il Signore usa i Suoi messaggeri come sta usando me per te questo è un appuntamento divino tu devi dare la risposta sorella ma tu mi ascolti fratello ascolti perché il Signore così manda il messaggio che ci che ci chiama a me il Signore non mi chiama ma come deve venire così arriva col messaggio del Vangelo la chiamata è incorporata nel messaggio del Vangelo hai capito Signore grazie oggi è per te oggi è il tuo giorno il Signore si è affezionato a te Dio parla di amore verso di noi infatti che cosa abbiamo letto in Deuteronomio 7 7 Dio vuole un popolo che lo segue amorevolmente leggiamo Deuteronomio 7 7 dice il Signore si è affezionato a te e ti ha scelto come ti ha scelto non è che in tre milioni di persone andava vicino a uno metteva il dito no lui parla alla nostra coscienza parla alla tua coscienza oggi è il giorno importante per te ognuno di noi deve personalmente fare la sua la sua scelta Abramo Isacco e poi quanti ce ne sono Giosuè per esempio alla sua vecchiaia aveva servito il Signore ma non si fermava nel capitolo 24 verso 15 di Giosuè lui alla sua vecchiaia era passato più di cento anni e ancora decideva di voler servire il Signore vi sembra e se vi sembra sbagliato servire il Signore scegliete oggi vedi oggi è importante per te chi vuoi servire o gli dei che i vostri padri hanno servito tutta l'idolatria che abbiamo in Italia Signore libera al di là del fiume cioè dall'altra parte nel paese dei quali abitate ma il Signore vuole che tu scegli lui questa mattina un cristiano non può scegliere un altro capitano noi abbiamo incorporato in noi l'espressione della fiducia divina in Abramo in verso noi infatti questo popolo cosa scelse scelse quello che aveva scelto Abramo perché noi o seguiamo il nostro capo di fede che è Abramo per la fede se no che seguiamo l'idolatria che ci circonda dove è scritto che Abramo ha scelto di seguire San Biagio San D'Antonio la Madonna tutte queste cose qua non dico la Madonna ma gli idoli sono tolti lui aveva una grande riverenza per Dio in spirito in Genesi 18 19 lui scelse anche lui dovete scegliere perché è una scelta che non la può fare nessuno al posto tuo infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare ciò che il Signore dice la giustizia e il diritto affinché il Signore compia in favore di Abramo ed è quello che gli ha promesso il Signore adembe le sue promesse nella misura che tu lo segui se no le promesse si perdono nel capitolo 15 verso 16 della Genesi leggiamo bisogna sempre stare dietro a Dio se l'abbandoni le cose allora vuol dire che non sei più interessato in Genesi 15 16 leggiamo insieme a Giovanni 15 16 scusami Giovanni 15 16 Gesù dice non siete voi che avete scelto me sono io che ho scelto voi il Signore sta scegliendo te questa mattina come ti sceglie ti sceglie attraverso il messaggio del Vangelo che ti sto portando io io sono un suo messaggero che ti piaccia o no io mi sono consacrato a lui io vivo per onorare il Signore tu mi puoi vedere anche così sottovalutare non ha importanza non è che dobbiamo essere chissà chi Filippo chi era era un pescatore però Dio si serve di quelli che si danno a lui per servirlo si vuole servire anche di te non sei tu è Gesù che ti sceglie proprio oggi come loro ebbero il loro oggi in Deuteronomio capitolo 30 verso 19 anche lì dovevano scegliere ogni giorno dobbiamo scegliere di seguire il Signore leggiamolo insieme questi esempi ci aiutano io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra non prende uomini che poi domani non ci sono per poter testimoniare prende punti di riferimento che sono sempre presenti finché Dio li distrugge che io ti ho posto davanti la vita e la morte la benedizione e la maledizione e dice a noi scegli dunque la vita affinché tu viva tu e la tua discendenza vedi quando noi scegliamo Dio scegliamo di vivere secondo i principi di Dio abbiamo la sua approvazione e abbiamo la sua benedizione questo invito di scegliere fra la vita e la morte la via è chiara è come una via di cristallo non possiamo dire non so non so che devo scegliere più chiaro di così che cosa vuoi scegliere la morte puoi mai scegliere la morte dobbiamo scegliere la vita infatti Gesù si presenta a noi con la sua parola in Giovanni 8 12 dice io sono cioè tu puoi avere una strada illuminata un cuore illuminato pieno di conoscenza divina perché perché lui dice io sono la luce del mondo chi mi segue non camminerà nelle tenebre parla della vita ma avrà la luce della vita io sono la luce del mondo di questo dove siamo noi non ci sono altri luminari chi mi segue cammina nella luce dove sono i luminari in questo mondo per andare nel cielo l'unico è Gesù e io scelgo Gesù questa mattina ancora una volta sono 57 anni che lo faccio anche questa mattina puoi scegliere Gesù che ti illumina che ti dà la luce che ti fa camminare con la luce ti dà la luce nell'intelletto ti dà la luce nella mente ti rischiara le idee porta lucidità perché l'unzione dello Spirito Santo porta lucidità alla mente se no ti senti come abbandonato a volte ti senti offuscato a volte la testa come se fosse tra le nuvole mentre lo Spirito Santo porta la lucidità celeste per darti discernimento come camminare nella vita naturale e in quella spirituale perché Gesù è la luce del mondo a Dio sia la gloria lo vogliamo ringraziare ringraziamolo insieme signore ti ringraziamo perché seguendo te noi abbiamo diventa sempre più chiaro il nostro sentiero vediamo sempre più chiaro le prospettive che ci stanno davanti vediamo sempre più chiaro che mentre questo mondo si degrada ogni giorno e scende nella miseria che quasi si affonda nella miseria tu ci prospetti il meglio mentre camminiamo con te perché tu tra poco tornerai e noi verremo con te ti prego per la sorella per il fratello l'amico l'amica tutti coloro che siamo stati insieme signore fa che lo spirito santo ti faccia scegliere te oggi e così camminiamo con te fino al tuo ritorno padre dio nostro dio te lo chiediamo insieme e a te diamo lode onore gloria ora e sempre amen amen hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org